Voi siete di qui? Non mi fa domande sulla roccia perché... Siete stanchi? Lasciamo stare. Sì, comunque è storia, quella scritta è sempre stata lì. Stanno creando solo un sacco di casino e ci sono nato con quella scritta. Mi fa piacere che l'hanno ragacciata. E stanca la maggior parte dei cittadini di Villa Santa Maria, il piccolo centro della provincia di Chieti, venuto alla ribalta delle cronache nazionali per la scritta Dux e relative polemiche per il restauro di questa. Impressa nella roccia. C'è stata anche un'interrogazione parlamentare di Camillo D'Alessandro, ma il sindaco di Villa Santa Maria Finamore fa sapere alla telecamera di Andrea Berardinelli che... No, sicuramente non verrà rimossa perché quella scritta non è stata scritta ieri. È lì dal 1940. È stata realizzata da alcuni cittadini villesi e ha segnato un periodo storico. Tutto qui. Qualcuno ha sostenuto, come l'onorevole D'Alessandro, che ha utilizzato uno stratagemma per ripulire la scritta. Non è così. Noi parliamo di una parete dove verranno realizzate 52 vie di risalita per rocciatori. Non so se la scritta porterà qualche rocciatore in più o in meno. Francamente non sono interessato. Volevo solo ridare a Villa quello che è di Villa. Non c'era nessun altro scopo. C'è poi un'altra polemica. L'Ampi, per esempio, solleva il fatto che il timore che, insomma, a Villa Santa Maria possano arrivare neofascisti. Non sono per gli estremismi, diciamo, né di destra né di sinistra. Sono sempre stato moderato. Se qualcuno viene a visitare e visita anche il nostro paese, ci fa molto piacere, purché non ci siano, diciamo, situazioni critiche. Di questo saremo accorti e vigileremo. Sì, è stato molto esagerato. È una cosa così semplice che quella ci è sempre esistita. Io sono di idee opposte, di sinistra, quindi non... Però io sono nato qui, vivo a Roma, però sono nato qui. C'è sempre stata quella scritta. Per me si sta andando troppo oltre. Perché sì, se c'è una legge, che è dal 65, che c'è questa legge dell'apologia del fascismo, perché ci si poteva pensare prima. Nonostante la maggior parte dei cittadini di Villa Santa Maria chieda di far finire le polemiche, esse tuttavia continuano. Il deputato abruzzese Camilo D'Alessandro ha presentato un'interrogazione a Salvini. Intanto perché contro la nostra storia, contro la storia di quei luoghi. Intanto chiariamo, non è un'opera architettonica, un palazzo fatto dall'architettura fascista che comunque va tutelato. Quella è una scritta di propaganda fatta dai saltati di allora per esaltare Benito Mussolini. In quei luoghi, nella Maiella, su quelle pietre, è nata, cresciuta, si è sviluppata la Brigata Maiella che ha liberato quei luoghi e li taglia intera. Allora, io ho presentato un'interrogazione perché Salvini, partendo da questo caso in tutta Italia, si ponga il tema del riemergere e dello sdoganamento dei simboli fascisti. Io sono convinto che il sindaco l'abbia fatto in buona fede, ma le sue giustificazioni però sono peggiori della scelta. Addirittura è arrivato a sostenere che quella scritta possa rappresentare un attrattore turistico. Io me ne immagino il turismo da predappio a Villa Santa Maria. So che c'è stato un intervento, un sopralluogo del prefetto e dei carabinieri, chiaro io dovrò andare a fondo. D'Alessandro propone una modifica da Dux a Pax, ma intanto ancora qualche residente. Se lei guarda i tompini, c'è ancora il fascio proprio del comune di Villa Santa Maria. Non vedo dove nasce il problema.